Al funerale della sua migliore amica, a una donna è stato consegnato un biglietto del defunto. Dopo averlo letto, ha preso un segreto scioccante che le sconvolse la vita. Ruth era davanti allo specchio. Era già pronta. Non restava altro che mettersi le scarpe e prendere la borsa, ed era pronta a partire. Non era ancora in ritardo, ma doveva già uscire, ma non riusciva a staccare gli occhi dal suo riflesso. Odiava il colore nero, ma oggi non aveva importanza. Ruth indossava un vestito nero lungo fino al ginocchio e collant neri. Sopra, ha indossato una giacca nera. I suoi capelli scuri erano raccolti in una stretta coda di cavallo. Non c'era quasi trucco sul suo viso e non si metteva il rossetto sulle labbra. Teneva gli occhiali da sole tra le mani. Le avrebbero nascosto gli occhi tristi e le lacrime, e oggi avrebbe pianto perché la sua migliore amica se n'era andata, e sarebbe andata a salutarla per l'ultima volta. Dio, quanto era ingiusto, perché Amanda era ancora così giovane. Lei e Ruth avevano quasi la stessa età, a soli due anni di distanza. È possibile partire a 34 anni? No, non dovrebbe essere così. Perché? Perché? Non era quasi mai malata. Perché il suo cuore si è fermato all'improvviso? Oppure era gravemente malata e lo nascondeva a tutti? Ruth non lo sapeva. Lei non sapeva niente. Il fatto è che Amanda non era più in questo mondo edilia un paio d'ore Ruth l'avrebbe accompagnata al suo ultimo viaggio. Ruth fece un respiro profondo, cercando di non piangere. Si lisciò con le mani il vestito, già stirato fino all'oscenità. Bene, è ora di andare. Ruth si mise gli occhiali, prese la borsa e uscì di casa. C'erano così tante persone nel cimitero che Ruth era confusa. Non conosceva quasi nessuno. Amanda non aveva parenti. Beh, glielo diceva sempre. Solo sua zia era una parente, ma non è venuta. Anche se erano migliori amiche, Ruth non ha mai conosciuto appieno il lignaggio di Amanda. Viveva in campagna. I suoi genitori erano morti e lei aveva ereditato una piccola casa. Ma Ruth non era mai stata lì. Ruth non ricordava nemmeno il nome esatto del villaggio. Amanda forse ne aveva parlato solo poche volte nel corso della loro amicizia, quindi Ruth non se lo ricordava nemmeno. Non avevano amici in comune. Erano migliori amici fin dai tempi dell'istituto. Ma avevano sempre avuto aziende diverse e la vita li aveva separati per tanti anni. Ruth ha visto solo una persona familiare. Era il cugino di Amanda. Era qualcuno che conosceva. Era la figlia della zia di Amanda. Ruth la salutò. Margaret voleva dire qualcosa, ma ha cambiato idea. Guardò attentamente la folla di persone venute a salutare il defunto. Aveva così tanti amici. Non lo sapevo nemmeno, mormorò Ruth rivolgendosi a Margaret. La donna la guardò e rispose piano. Amanda aveva pochissimi amici. C'erano solo alcuni dei suoi conoscenti d'affari, i suoi dipendenti. Potresti dire che eri l'unico a cui fosse stata vicina. E queste persone, questi erano tutti i suoi coinquilini. Amanda ha lasciato un biglietto, chiedendo. Voleva che tutti nella casa in cui viveva fossero invitati al suo funerale. Non so perché avesse un tale desiderio. Forse era perché era stata un po' sola nella sua vita e non era mai stata circondata da molti amici e parenti. Forse voleva avere un'intera folla attorno a sé in una giornata come quella. Non capisco di cosa si tratta. Mi sembra che siamo solo io e te qui a piangere, un paio di suoi colleghi e tutti gli altri. Guarda i loro volti. Sono venuti solo per un pasto gratuito e un drink dopo. Ma non ho potuto resistere ad una richiesta. Dopo tutto, era il suo ultimo desiderio. Margaret si asciugò le lacrime e se ne andò. E Ruth si chiedeva. Quindi Amanda sapeva che sarebbe morta, perché le aveva scritto un biglietto chiedendole di farlo. Quindi doveva nascondere qualche malattia. Perché non glielo ha detto? Ruth l'avrebbe aiutata. Non l'avrebbe lasciata sola. Possono combattere insieme per la sua vita. Cosa le è successo? Perché non le ha detto niente? Quando tutto finì, Ruth impiegò molto tempo per riprendere i sensi. Il rumore delle zolle di terra che cadevano e colpivano il coperchio della bara era ancora nella sua testa. E poi non riusciva a distogliere lo sguardo dagli agili lavoratori, che brandivano abilmente le pale. Quando tutto fu finito, quando si formò una collina sulla quale furono poste in cima grandi corone, Ruth sentì un brivido. Pensava che sarebbe svenuta. Ma non lo fece. Solo il suo cuore continuava a tremare dentro. E Ruth sapeva che il dolore per la perdita della sua amica non si sarebbe mai placato. Per ora, Ruth era tutta sola. Mentre Ruth stava tornando a casa, Margaret la fermò. Ho bisogno di parlare con te. Andiamo via. Non voglio nessun testimone. Si allontanarono dalle orecchie e dagli occhi curiosi, e Ruth guardò con curiosità la cugina di Amanda. Margaret tirò fuori dalla borsa una busta bianca senza scritte. Lo tenne tra le mani per un po' che poi lo consegnò a Ruth con le parole, «Prendilo. È per te». Ruth si rigirò la busta tra le mani perplessa, esaminandola da tutti i lati. Che cos'è? Margaret alzò le spalle. Ma è venuto fuori in qualche modo strano. Era impossibile dire se Margaret non sapesse cosa c'era nella busta o se semplicemente non volesse parlarne. Avrei dovuto darti questa lettera. Amanda l'ha scritto, ed era per te. Non l'ho letto. Amanda ha detto che te lo avrei dato se se ne fosse andata all'improvviso. Questo è successo circa tre mesi fa. Penso che Amanda sapesse che le sarebbe successo qualcosa, quindi me l'ha dato. Le ho chiesto cosa c'era che non andava in lei. Perché ha iniziato a pensare a cose del genere. Ma lei si è messa a ridere e ha detto che tutto poteva succedere. Non ci avrei prestato attenzione se lo avessi saputo. Margaret si asciugò le lacrime, salutò Ruth e si allontanò da lei. Ruth fissò la busta. Voleva aprirla subito, ma si trattenne. Se fosse stata l'ultima lettera di Amanda, avrebbe dovuto leggerla a casa. Non voleva scoppiare a piangere proprio lì davanti a tutti quegli sconosciuti. Un'ora dopo, Ruth era a casa. Non si spogliò nemmeno, gettò la borsa sulla soglia e andò in soggiorno. Salì con i piedi sul divano e aprì lentamente la busta. All'interno c'erano due pezzi di carta. Ruth riconobbe immediatamente la calligrafia ordinata della sua migliore amica. Subito le apparvero le lacrime agli occhi. Perché, perché non mi hai detto niente, Amanda? Se niente potesse aiutarti, almeno avrei potuto essere lì per te, sussurrò tristemente Ruth. Sospirò, cercò di calmarsi e poi cominciò a leggere la lettera. Mia carissima Ruth, sai quanto ti amo e cosa significhi per me. Se stai leggendo questa lettera adesso, me ne sono andato. Mi dispiace di non averti detto nulla della mia salute. Vedi, so che mi avresti fatto fare tutto il possibile, mi avresti fatto combattere fino alla fine. Ma non ne avevo più bisogno. Le possibilità di sopravvivenza erano così scarse che avrei semplicemente sofferto più a lungo. Ho fatto la mia scelta, mia cara. Mi dispiace di non avertelo detto. Mi dispiace anche per le cose che ho dovuto nasconderti per anni. Ed è qualcosa per cui sicuramente mi odierai, lo so. Ma quando ti dirò perché l'ho fatto, forse non me ne vorrai. Ho fatto una scelta una volta. Forse era sbagliato, ma ormai è troppo tardi per parlarne. Voglio solo confessarti che io... Ruth lesse la lettera, e il suo viso diventava sempre più pallido a ogni riga che leggeva. Giunta alla fine della lettera non riuscì più a trattenere le lacrime. Come? Come hai potuto? Com'è possibile, Amanda? Perché non hai confessato tutto? Dopotutto, tutto avrebbe potuto essere diverso. Perché? Perché ti sei sacrificato per me? Avresti potuto vivere la tua vita diversamente. Perché lo hai fatto? Ruth pianse a lungo. La lettera giaceva sulle sue ginocchia. Quando finalmente si calmò, riprese in mano la lettera. Lo lesse di nuovo. Un'intera gamma di sentimenti le balenò sul viso. Rabbia, risentimento, confusione, indecisione, ancora rabbia, amarezza e ancora confusione. Alla fine, la determinazione le si congelò sul viso. Sapeva già cosa doveva fare. L'unica cosa era come Ethan avrebbe reagito. Dopotutto, tutto ciò riguardava più lui che lei. Come dirlelo? Come raccontargli tutto? Ruth e Amanda si sono incontrate durante il loro primo anno all'istituto. Condividevano una stanza in un dormitorio. Ruth aveva solo 18 anni ed era entrata all'istituto subito dopo il liceo. Mentre la ventenne Amanda non riuscì ad entrare subito dopo il liceo, ci riuscì solo alla terza volta. Sono diventati subito amici. Sebbene fosse una ragazza di campagna, Amanda era quanto di più vicino avesse a una ragazza di città. Le ragazze erano migliori amiche. All'inizio entrambe non pensavano ai fidanzati perché entrambe avevano lo stesso obiettivo, studiare bene e laurearsi con l'Odeal College. All'inizio trascorrevano tutto il loro tempo libero studiando. Fu solo sei mesi dopo che diventarono più socievoli. Cominciarono a uscire con i loro compagni di classe. Ma Amanda preferiva comunque uscire con Ruth piuttosto che con altri ragazzi. Spesso rifiutava la compagnia rumorosa, citando la stanchezza o altro. Inoltre andava spesso a passeggiare nel parco che si trovava lì vicino. Fu durante una di quelle passeggiate che incontrò un giovane. Tra di loro divamparono sentimenti violenti. Amanda si innamorò senza memoria. Le sembrava che anche il ragazzo lo facesse. Fu solo un mese dopo che disse alla sua migliore amica che aveva un giovane e che lo amava moltissimo. Ruth in quel momento si offese. «Perché non hai detto nulla per così tanto tempo? Vergognatevi? Si chiama migliore amico. Questo è tutto. Sono arrabbiato con te». Naturalmente Ruth stava esagerando. Naturalmente non si è sentita offesa dalla sua migliore amica. Ognuno doveva avere qualcosa di privato che appartenesse solo a lui e ognuno aveva diritto ad un segreto. Spettava all'individuo decidere se dirlo o meno a qualcuno. Se Amanda lo diceva, significava che faceva sul serio. «Ok, ok, non mi offendo. Dimmi chi è, ti ama? Hai già avuto una relazione? Dimmi. Dimmelo velocemente. Sono così interessato. È meraviglioso. Penso che anche lui mi ami molto. E sì, eravamo vicini. Oh, lo vedrai presto. Te lo presenterò presto. Aspetta solo un po'. Lo scoprirai». Amanda non le ha detto il nome o l'età del ragazzo. Non aveva nemmeno nessuna sua foto. Ruth decise che avrebbe aspettato finché Amanda non li avesse presentati. Ma il tempo passò e la conoscenza non ebbe mai luogo. Ruth cominciò a notare che Amanda era spesso triste e pensierosa e una notte venne addirittura a piangere. Poi Amanda ha detto a Ruth che aveva rotto con il suo ragazzo. Ha detto che non mi amava più. Ha detto che aveva incontrato qualcun altro e che quella ragazza aveva catturato il suo cuore e che voleva stare con me ma non riesce a controllare il cuore di una persona. Ed è stato onesto con me. Ha semplicemente deciso di essere onesto. Ha rotto con me per poter uscire con un'altra ragazza con la coscienza pulita. Ruth, non ci posso credere. L'ho amato così tanto. Perché succede questo nella vita? Come posso uscire adesso da questa situazione? Ruth voleva fare qualcosa per sostenere la sua amica. Dimenticalo. Se non ti ama, lascialo andare da qualcun altro. È un bene che non sia ancora successo nulla di grave altrimenti avrebbe potuto lasciarti in una situazione peggiore. Ecco, meglio così. Non posso credere che sia così onesto. Ha confessato tutto. Amanda, non piangere. Sei fortunato che sia andata così. È meglio lasciarsi adesso che essere ingannati e abbandonati in seguito. Considera che ti sei separato di comune accordo. Incontrerai un bravo ragazzo che ti porterà tra le sue braccia. Sposalo e fai un sacco di bambini con lui. Amanda fissò in silenzio il soffitto. Sussurrò, avrò molti bambini. Sì, darò alla luce un sacco di bambini. Ruth cercava ogni giorno di rallegrare la sua amica. Dopo un mese, Amanda sembrava essersi ripresa un po' dalla dura rottura. E poi Ruth le lo ha confessato. Era da tanto che volevo dirtelo, ma avevo ancora paura di ammetterlo. Eri così triste. Avevo paura che saresti stato così triste quando avessi visto quanto ero felice. Ma ora vedo che stai iniziando a cambiare idea e voglio condividerlo con te. Vedi, ho incontrato questo ragazzo. Amanda, penso che sia lui la persona giusta. Sono così innamorato di lui. Onestamente, mi sono innamorato di lui a prima vista. E penso che anche lui sia pazzo di me. Dovresti vedere il modo in cui mi guarda come se fossi l'unico suo figlio al mondo. Ci conosciamo da due mesi, ma abbiamo iniziato a frequentarci solo un mese fa. Non so perché abbia aspettato un mese. Ci siamo incontrati molte volte nella compagnia generale. Ho visto il modo in cui mi guardava. Comunque usciamo insieme e lui dice già che vuole stare con me tutto il tempo. Riesci a immaginarlo, Amanda? Probabilmente sta suggerendo che vuole sposarmi. Amanda guardò la sua migliore amica con un sorriso triste. Era ironico. Amanda aveva rotto con il suo ragazzo un mese fa. E Ruth, nello stesso tempo, aveva incontrato il suo amore. Tutto in questo mondo è relativo. Voglio davvero che vi incontriate. Oggi faremo una passeggiata nel parco. Verrai con me. Faremo una piccola chiacchierata, faremo una passeggiata e poi andremo a casa. Verrai con me, vero? Per favore, ti sto implorando. Voglio tanto che vi incontriate. Amanda consentì. Se avesse saputo come sarebbe andata a finire per lei questa conoscenza, quali emozioni avrebbe provato, avrebbe fatto le valigie e sarebbe partita subito. Avrebbe lasciato la città, se ne sarebbe andata per sempre, per non rivedere mai più nessuno. Ma Amanda non lo sapeva. La sera andarono al parco. Il ragazzo di Ruth non era ancora arrivato. Le ragazze erano sedute su una panchina e chiacchieravano, poi hanno lanciato un forte grido, rivolgendosi a qualcuno. Ehi, siamo qui. Vieni qui. E poi sussurrò ad Amanda. Eccolo. Quello è il mio ragazzo, Amanda. Amanda sembrava muoversi al rallentatore e, mentre si girava a lungo, il suo sguardo si concentrò sul ragazzo e sbatté lentamente le palpebre. Fissò il ragazzo che si avvicinò a loro, e il ragazzo la stava fissando, e Ruth lo baciò agilmente sulla guancia, e poi suggerì velocemente Amanda. Incontriamo. «Questo è Ethan. Questo è il mio ragazzo. Ethan, lei è Amanda, la mia migliore amica e la persona più meravigliosa del mondo». Amanda guardò Ethan. In silenzio, non riusciva a pronunciare una parola. Anche Ethan rimase in silenzio. Solo Ruth continuava a balbettare. «Cosa hai che ti rende così cupo? Come se ti avessi presentato per forza. Quello che è successo? Vi conoscevate già?» Ethan aprì la bocca per rispondere. «Ma Amanda lo precedette. No certo che no. Non ci conosciamo. Giusto. È stato un piacere conoscerti, Ethan. Ruth ha parlato così tanto di te che mi sembra di conoscerti da molto tempo». Ethan mormorò, «Anch'io. Piacere di conoscervi. Oh, probabilmente vi lascerò soli. Mi sono ricordato di cosa avevo bisogno. Comunque, non importa. Io vado e tu vai a fare una passeggiata. Ecco proprio quello che volevo dirti, Ethan. Non fare del male al mio amico. Per il bene del suo benessere, sono pronto a tutto. Distruggerò chiunque anche solo una parola le causi dolore. Capisci? Sono molto felice che tu abbia reso felice il mio amico. Lei è raggiante. Siate felì. Sono felice per te. E voi due siete molto compatibili. Va bene. Beh, devo andare. E Amanda se n'è andata. Quando Ruth tornò al dormitorio, Amanda non c'era più. C'era solo un biglietto in cui Amanda le diceva che aveva qualcosa che non andava e che doveva recarsi urgentemente al villaggio. Ruth impiegò un paio di settimane per mettersi in contatto con la sua amica. Risultò che Amanda aveva lasciato l'istituto, o meglio non aveva abbandonato gli studi, ma aveva preso un periodo di aspettativa per motivi familiari. Riguardava sua zia, la sua unica parente. Amanda disse che sarebbe rimasta in campagna per circa un anno, poi sarebbe tornata in città per prendersi cura di sua zia, e la ragazza non l'avrebbe lasciata. Per quanto Ruth insistesse per venire ad aiutare la sua amica, lei era fortemente in disaccordo. No, no, studia, fatti gli affari tuoi. Starò bene. A dopo. Non posso adesso. Ruth avrebbe voluto andare a trovare la sua amica più tardi, ma Amanda non voleva nemmeno darle l'indirizzo. Non si vedevano da cinque anni. Amanda non è mai tornata all'istituto. Si richiamarono, ma nel complesso la loro comunicazione non era più così stretta. Tutto era cambiato. Durante quei cinque anni, Ruth riuscì a sposare Ethan. Si è laureata all'istituto con l'Ode e volevano avere subito un bambino, ma per alcuni mesi non ha funzionato. Poi Ruth andò da un dottore. Dopo numerosi esami si scoprì che aveva una patologia congenita, a causa della quale Ruth non avrebbe mai potuto diventare madre. Questo è stato un colpo terribile per la ragazza. Non importa quanto Ethan la confortasse e che non fosse la cosa principale, non poteva prendere questa notizia con calma. Ha avuto un esaurimento nervoso per questo, e poi ha deciso che non potevano stare insieme con Ethan. Ha deciso di divorziare da lui. Meriti una donna migliore. Hai bisogno di una vera donna, non di me. Hai bisogno di qualcuno che possa darti dei figli. Non potrò mai renderti felice. Non posso più stare con te. Non importa quanto Ethan la consolasse, non importa quanto la convincesse, Ruth manteneva la sua posizione. La loro vita familiare era finita. Divorziarono ed Ethan partì immediatamente per un'altra città per allontanarsi dal luogo in cui non poteva essere felice. Quasi subito dopo la separazione, Ruth chiamò la sua amica e le raccontò tutto. Amanda era già a casa sua tre giorni dopo. Dopo una separazione così lunga, Ruth difficilmente riconosceva la sua amica. Era cambiata così tanto, era diventata così matura, come se avesse dovuto sopportare una dura prova, ed era così magra ma in forma. Amanda è riuscita a tirare fuori Ruth dalle condizioni peggiori. È rimasta in città. A volte andava al villaggio, ma non per molto. Ritornava in città ogni volta. Ha affittato un appartamento. Non si è mai sposata. Ha detto che non ne aveva bisogno. Dopo un po', Amanda ha avviato una piccola impresa. Ha aperto un negozio di ortaggi, per così dire. Era molto popolare perché li venivano sempre venduti solo prodotti di alta qualità. Gli affari andavano a gonfie vele. Ruth ha iniziato una nuova vita. Certo, continuava ad amare Ethan e non aveva bisogno di altri uomini, ma non si considerava più una donna che qualcuno potesse amare. Anche lei si considerava ancora una mostro. Ruth è stata strappata dai suoi ricordi da una telefonata. Era Margherita. Hai letto la lettera? Ruth chiuse gli occhi e rispose, sapevi tutto? Sì lo sapevo. Ci ha fatto promettere di non dire mai nulla e sono felice che tu l'abbia scoperto. È un peccato che sia successo solo dopo che se n'è andata, ma è stata una sua scelta. Ruth, devi andare. Ruth si accigliò. Ci penserò. Le ha dato il diritto di decidere da sola. Domani andrò al villaggio per incontrarla. Dio, non posso credere. Come ha potuto nasconderlo per così tanti anni? Forse ha commesso un errore, ma è stata una sua scelta. Oh, mia madre ti sta aspettando, rispose Margaret. La sera successiva Ruth era già nel villaggio dove Amanda era nata e dove aveva vissuto quei cinque anni in cui aveva lasciato l'istituto. Ruth guardò di nuovo l'indirizzo scritto nella lettera. Sì, è qui. Ruth rimase indecisa ancora per qualche minuto. Non riusciva a trovare il coraggio di aprire il portello. E poi la porta di casa si aprì e ne uscì una donna anziana. Fissò Ruth. E poi gridò, Ruth. Ruth si rese conto che era la signora Smith, la zia di Amanda. Sapeva perché Ruth era venuta. Annui alla donna che la salutò. Si accomodi. E Ruth entrò. Quando si tolse le scarpe da ginnastica ed entrò in casa, vide un ragazzo e una ragazza seduti al tavolo. Erano un fratello e una sorella, entrambi di dodici anni. Si tenevano per mano e guardavano intensamente Ruth. Ciao, dissero insieme guardando Ruth. Ruth si sedette sulla sedia offerta dalla signora Smith ciao. Riusciva a malapena a dirlo. Sei la migliore amica di mamma? Mi ha parlato molto anche di te e di tuo padre. Sei venuto solo per incontrarci. La mamma mi ha detto prima di partire che saresti venuto, disse piano la ragazza. Ruth guardò i figli di Amanda. Dio, quanto somigliavano a Ethan. Quando Ruth presentò la sua migliore amica al suo giovane preferito, una cosa che non sapeva era che Amanda era quella che Ethan aveva lasciato per Ruth. Usciva con Amanda e la ragazza lo amava moltissimo. Ma il cuore non può farne a meno, è vero. Ethan ha incontrato Ruth e si è subito innamorato di lei, e lo ha ammisso onestamente ad Amanda. Non voleva ingannarla. Si sono lasciati ed Ethan ha iniziato ad uscire con Ruth. Ma Ethan non sapeva che Amanda era già incinta di lui quando si lasciarono. Nemmeno la stessa Amanda lo sapeva. L'ha scoperto prima che Ruth decidesse di presentarla al suo ragazzo. Amanda pensava di poter dire a Ethan della gravidanza. Ma quando vide che Ethan era innamorato della sua amica, si rese conto che non poteva farlo, e decise che non avrebbe mai detto a Ruth che anche lei era innamorata di Ethan e che era incinta di lui. Ed Ethan non ha detto alla sua amante che Amanda era la sua ragazza prima di lei. E Amanda lasciò tutto e andò al villaggio. Ha deciso di tenere il bambino. Raccontò tutto alla zia, piangendo, singhiozzando. Sua zia l'ha sostenuta. La protetta. E dopo un po' Amanda diede alla luce due gemelli, Michael e Mary. Nessuno sapeva chi fosse il padre dei suoi figli. Solo la signorina Smith e Margaret lo sapevano. Ma non lo hanno detto a nessuno. E Amanda non aveva alcuna intenzione di ritornare in città. Pensava che sarebbe rimasta per sempre nel villaggio con i suoi figli. Amanda sperava che la sua amica fosse felice con Ethan. Sapeva che erano sposati. Ruth l'ha chiamata al matrimonio, ma Amanda non è venuta. Amanda sperava di non dover mai vedere la coppia felicemente sposata. Amava la sua migliore amica, ma anche suo marito. Vederli insieme è stato molto difficile. Cinque anni dopo, però, Ruth la chiamò e le raccontò della sua separazione dal marito. Era in uno stato così terribile, si inghiozzava e urlava al telefono, che Amanda non poteva lasciarla in difficoltà. Tornò in città, lasciando i suoi figli con la zia. Quindi rimase in città, visitando continuamente i suoi figli. E dopo aver avviato la sua attività, ha iniziato a dare soldi a sua zia e a raccogliere fondi per il futuro dei suoi figli. Andava tutto bene finché Amanda non cominciò a sentirsi male e scoprì la sua malattia. Non ha fatto un tentativo disperato di salvarle la vita ad ogni costo. Non pensava che ne valesse la pena. Si è semplicemente presa cura del futuro dei suoi figli, ha organizzato tutto ciò che aveva su di loro e ha lasciato una lettera alla sua migliore amica per raccontarle almeno tutto ciò che conteneva. Ruth guardò i suoi figli. Stavano aspettando che lei rispondesse alla domanda. Alla fine, riuscì a dire Ruth, non sono venuta solo per incontrarti. Sono venuto a portarti con me e a presentarti a tuo padre, solo se lo vuoi. Il ragazzo e la ragazza si guardarono. Si guardarono per un po', continuando a tenersi per mano. E poi la ragazza disse, una settimana dopo, Ruth era già a casa con Michael e Mary. Raccolse gli elementi essenziali delle loro cose. La sorella e il fratello si comportavano in modo molto diffidente. Avevano un po' paura del momento in cui avrebbero dovuto incontrare il loro padre. E Ruth non sapeva se sarebbe riuscita a trovare Ethan. Era partito per un'altra città dopo che si erano separati. Non hanno mai più chiamato né incontrato. Forse non aveva più quel numero di telefono. Ma decise che non c'era tempo da perdere. Compose il suo numero. Ha sentito dei segnali acusti. Almeno il numero era disponibile. Ma chi risponderebbe al telefono? Ciao. Era la voce di Ethan. Ruth rimase in silenzio, e Ethan rimase in silenzio, e poi disse, non ho cancellato il tuo numero. Lo so, sei tu, Ruth. Ruth arrossì e gli chiese subito, perché non mi hai mai detto che uscivi con Amanda? Ethan sospirò. Sai, volevo dirtelo subito, nel momento in cui ci hai presentato allora al parco. Ma Amanda mi ha chiarito che non voleva che te lo dicessi, perché non te l'ha detto nemmeno lei. Se mi lo chiedi dopo tutti questi anni, devi averlo appena scoperto. Amanda te ne ha parlato. Amanda se n'è andata. Ethan tacque. Dopo un minuto disse, peccato. Mi dispiace. Mi ha lasciato una lettera in cui mi ha raccontato tutto, e tu devi venire urgentemente da me perché c'è qualcuno che ti devo presentare. Presentami? Presentarmi a chi? Io non capisco niente. Ethan era confuso. Devo presentarti ai tuoi figli. Passarono due anni. Ethan e Ruth si sono sposati di nuovo. Per tutto questo tempo entrambi continuarono ad amarsi, e ancora una volta non poterono resistere ai loro sentimenti. Michael e Mary vivevano con loro, ovviamente. Ethan non poteva credere che Amanda gli avesse nascosto la verità e che lei gli avesse nascosto i bambini per così tanti anni. Ma lui l'ha perdonata dopo tanti anni. Amanda, proprio come la prima volta, ha dato a Ethan e Ruth la possibilità di essere felici. La prima volta si è semplicemente fatta da parte, permettendo ai cuori amorevoli di stare insieme. E la seconda volta li riunì e affidò loro i suoi figli, che amava più di ogni altra cosa al mondo.